ragazzi buongiorno bentornati nel mio canale eccoci qua per una velocissima recensione del fiat ducato dopo 200 mila chilometri allora mi è stato chiesto e vediamo un attimino di di vedere come come questo furgone dopo tre anni e come dicevo quasi 200 mila chilometri ho appena fatto il tagliando ho appena cambiato la cinghia di distribuzione mi ero dimenticato non so come mai è sfuggita quindi l'abbiamo fatta 30 40 mila chilometri dopo il consigliato però fortunatamente anche merito credo anche del tipo di guida dell'utilizzo che ne facciamo noi io lo uso personalmente e vado molto piano cioè cerco comunque di farci attenzione e raccomando a chi lo usa di utilizzarlo con con criterio perché i mezzi comunque se usati bene durano nel tempo per cui visti i chilometri in tre anni andando con un'andatura giusta si si conservano meglio i mezzi allora vediamo di parlare subito del dei dei pro del ducato allora educato ormai sono tantissimi anni che sul mercato per cui è un mezzo che abbiamo visto migliorare continuamente questa questa versione è ormai a tre anni e adesso la cabina la faccio vedere ma la pena perché è un gran casino però devo dire che non ha grossi grossi difetti l'unica cosa che vorrei forse è il volante un pochettino più inclinato questo mi piacerebbe ma è una questione mia preferisco il volante un po più verticale come vi ho già detto anche quando parlavo del camion e per il resto in cabina mi piacerebbe avere qualche qualche vano qualche mano in più ad altezza truscotto dove mettere le cose il telefono le chiavi e altre cose però anche questo ripeto cioè non è che non ci sono non ci sono vani però trovo sempre che non siano mai abbastanza per il resto questo come vi dicevo è il 2003 multijet da 177 cavalli il mezzo va bene cambio manuale il cambio manuale che non ricomprerei l'ho già detto altre volte non ricomprerei perché questo cambio qua sei marce robotizzato non mi piace però fa il suo lavoro egregiamente assolutamente niente da dire ha avuto qualche problemino ma più che altro è elettronica perché è bastato un reset spegnere riaccendere dopo qualche minuto anche se è successo soprattutto inizialmente più all'inizio un paio di volte due tre volte di comunque trovarsi la marcia bloccata è situazione poco gradevole ma purtroppo oggi con l'elettronica sono cose che succedono sempre più spesso per cui spesso basta staccare la batteria o spegnere riaccendere per cui anche il cambio come vi dicevo non non ci possiamo lamentare andiamo a vedere quelli che ritengo i veri e propri difetti che no scusate finiamo di parlare dei dei vantaggi perché ho scelto il ducato pur caricando tanto come come peso ho preferito il ducato al daily ai mezzi con trazione posteriore primo perché è maggiore la portata comunque non sembra ma questo porta 1450 kg e non sono mai abbastanza per cui la portata è la prima cosa poi abbiamo un come potete vedere è un passo abbastanza lungo e uno sbalzo corto per cui anche qui la distribuzione dei pesi rimane ottimale anche se andiamo un po a perdere di inagilità perché i mezzi con trazione posteriore normalmente hanno anche davanti le ruote che sterzano molto di più magari spesso hanno passi più corti e sbalzo un po più lungo ma c'è di tutto quindi sto parlando di quello che del rispetto al daily ad esempio che avevo che avevo prima questo lo trovo meglio per quello e anche perché io comunque d'inverno come avete visto ogni tanto incontriamo la neve e col mezzo carico chiaramente la trazione anteriore rimane leggermente penalizzata ma comunque ha su del peso col mezzo scarico la trazione posteriore rimane troppo leggera per vedere il motore davanti sulle ruote che mi dà comunque un pochettino di trazione in più poi ognuno veda in base anche al proprio uso se usi il mezzo sempre carico chiaramente il peso sulle ruote posteriori aiuta tantissimo e altra cosa come vedete chiaramente rimane più basso il mezzo di conseguenza abbiamo un gradino più più agile per salire però anche quello io carico principalmente con un letto quindi alla fine non mi fa grossa differenza ma se scaricate continuamente a mano sali scendi chiaramente rimane vantaggioso andiamo a parlare dei veri e propri difetti perché comunque ci sono un paio di cose che gli ingegneri dovrebbero andare un attimino a rivedere e spero che prima o poi lo faranno allora il primo difetto vedete là in cima c'era su quello precedente avevo la telecamera lì sopra era molto sporgente perché forse erano le prime c'era tutta la parte di plastica che veniva fuori parecchio per poter andare a vedere bene il fondo e col muletto me l'avevano urtata me l'avevano rotta più volte la plastica e oltre che lo schermo della telecamera rimaneva in alto al posto dello specchietto interno e chi usa un furgone abituato a lavorare molto guidare molto con gli specchietti se guardi negli specchi non puoi guardare al centro per cui non mi piaceva abbiamo scelto i sensori di parcheggio ma qui abbiamo la prima criticità che poi molti risolvono in aftermarket però non ha senso dovrebbe essere già fatto così vedete questa è plastica questa è plastica purtroppo caricando con i muletti spesso ci si va contro e come vedete in questo caso un sensore è rientrato adesso non funziona quindi tutte le volte devo andare a sistemarlo io e questo molti vedo che appunto mettono dell'alluminio che protegge perfettamente i sensori però dovrebbe essere una cosa fatta di serie secondo me altra cosa di cui altro difetto che questo invece veramente pesante non mi piace proprio e vediamo di aprire la porta vi faccio vedere allora scusate dovevo prepararmi la prima allora andiamo ad aprire la porta come vedete qui abbiamo un bancale quel bancale largo 110 le misure standard dei bancali sono gli epa all 80 120 e ormai sono diventati 110 per 130 per cui la porta dovrebbe essere circa 120 come vedete il bancale entra però vedete vi faccio vedere qua avete questo rigonfiamento che serve chiaramente per dare un po più di spazio alla cabina va a togliere spazio quando il bancale fosse alto se questo bancale fosse tutto dritto vedete che alla fine io tutta questa parte qui la vado a perdere di conseguenza vedete col muletti alla fine finiscono spesso per sbatterci questo è stato muletto e questo anche quindi il bancale entra ma entra a pelo e in base ai posti dove vai è chiuso al muletto ci troviamo questa problematica che poi guardando lo spazio vedete anche qui abbiamo dello spazio in fondo la porta potrebbe tranquillamente essere un po più grande e come dicevo essendo i bancali ormai standard basterebbe poco lo fai una volta fai la porta 130 e poi certo mi direte arriverà quello che dice allora io lo voglio mettere per largo no va bene però io ormai sono anni che utilizzo questi mezzi e sinceramente la porta 20 cm più grande risolverebbe molti problemi questi sono gli unici due veri difetti che trovo che trovo nel fulgore per il resto come vi ho detto ragazzi 195 mila chilometri 200 mila comunque consideriamoli e il mezzo va veramente bene se usato con con criterio superiamo gli 11 chilometri con un litro calcolando che a 180 cavalli direi che comunque ci sta è un buon consumo come come avete visto nel video del consumo naturalmente cioè se schiacciate questo va e consuma ma l'utilizzo dei furgoni un po troppo allegri io lo lo condanno perché non è il modo di utilizzare e di far durare un mezzo va bene spero che questa breve recensione vi sia piaciuta guardate in che bellissimo ambiente siamo quello il ticino quella la sopra l'autostrada 26 a questo punto vi chiedo di iscrivervi al canale lasciare un like e commentate se avete delle domande sarò felice di rispondervi altrimenti ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi ciao